Bella, bionda e ticinese, la nostra Xenia Ciudiceva ha appena interpretato una piccola parte in un film di Hollywood, Without Me, con la star di Desperate Housewife, Eva Longoria e Christian Slade. La verità è che non è mai stato il mio grande sogno di diventare attrice a Hollywood, ho sempre pensato di andare passo per passo a costruire le cose e passo per passo ho avuto fortuna insomma, mi è arrivata questa proposta grazie a mia PR che ha inviato dei miei video in cui recitavo alla regista, alla regista mi è piaciuto e mi ha preso questa piccola parte. La regista si chiama Gabriella Tagliabini, è molto brava, il film è con Eva Longoria e Christian Slater, è una produzione a come si dice low budget, cioè piccolo budget, avranno avuto sui 10 milioni che per noi non è piccolo ma per loro è, insomma non è, quindi è coprodotto da Eva Longoria, quindi è un progetto molto particolare, molto bello perché è basato anche su una novella classica del 1800, io ho un ruolo semplice, sono una ragazza che lavora in un bar, un cabaret, in una città in cui non ci sono più uomini, quindi insomma mi lamento di questa cosa. La regista ha un modo di lavorare molto particolare, lei non ha un copione, io non avevo delle mie line, non avevo un copione, pensi sapevo la situazione, sapevo bene o male cosa dovevo dire ma poi improvvisavo, lei voleva vedere reazioni naturali, quindi io interagivo con la proprietaria di questo bar in cui mi lamentavo del fatto che insomma non c'era più lavoro perché la città era deserta. E quindi com'è stata questa esperienza a contatto con Hollywood, a contatto con attori anche conosciuti? Beh, che dire, io ho incontrato Eva Longoria, non ho incontrato lui, lei è iper professionale, serissima, una grandissima lavoratrice, insomma è assolutamente giustificato il fatto che il suo successo non è come sembra, non è tutta una cosa montata, mediatica bensì c'è tanto lavoro dietro, non è, è pesante, stanno in roulotte 12 ore al giorno, sono di più, ha girato una scena in un fiume in cui doveva nuotare e baciare sott'acqua una ragazza e insomma l'acqua era gelata, era le 5 di pomeriggio ma faceva freddo, un'ora freddo, lei un'ora intera senza fare una piega e ha resistito a quest'acqua, quindi non è tutto stelle, glitter. L'insegna non cerca Hollywood ma dopo questa esperienza sei sempre dell'idea che vorresti fare altro? Sì, nel senso, a me è piaciuta molto e non direi mai di no se qualcosa arrivasse, ma non penso che le cose arrivano da sé, bisogna lavorare per averle e quindi bisognerebbe trasferirsi lì, bisognerebbe iniziare a fare provini, a studiare davvero recitazione, a studiare edizione perché io ho un accento quindi devo comunque toglierlo se volessi veramente seriamente iniziare una carriera hollywoodiana, quindi è una scelta che si fa. Io quello che vorrei fare è leggermente diverso, vorrei andare in una strada di presentazione o comunque mi piacerebbe un giorno avere un mio programma che parli di news economiche perché io ho studiato economia e a me piace, cioè insomma mi manca, mi sento un po' frustrata ad essere in questo mondo e non avere a che fare del tutto con la finanza, l'imprenditorialità, quindi vorrei unire queste due cose e ho pensato che il modo migliore per unirle alla fine sarebbe fare delle qualcosa stile CNN, BBC, CNBC, Los Angeles è tanto lontano, cioè infatti ci devo tornare ancora, però è lontano da casa, è lontano da tutto, sono nove ore di differenza di fuso orario, non so se mi piacerebbe stare lì, però ho già un altro progetto lì, ho un altro progetto di una campagna pubblicitaria di abiti che farò quindi fra due settimane dove essere in aula, il che è divertente perché sto bene o male scoprendo sempre di più l'America. E nel frattempo stai anche lavorando nella direzione di quest'altro tuo sogno di avvicinare il mondo economico a quello della presentazione con un progetto che partirà in Toscana? È un progetto che sarà in giro per tutto il mondo, sarò io a presentare degli show sia live, tutto al vivo che registrati, lifestyle, quindi parlerò di qualsiasi cosa, adesso iniziamo con parlare di vini, di produzione di vini di alta qualità, quindi avremo nei vari posti in giro per il mondo, dovevano promuovere il vino americano, sono texani, però è una piattaforma su internet di alta qualità, quindi prodotta da persone che tra l'altro erano CNN e CNBC, quindi mi avvicinerà un po' a questo mondo e potrò presentare in più lingue, potrò presentare in inglese soprattutto, ma anche in altre quattro lingue, quindi questo mi aiuterà molto a creare dei tapes, si chiamano così, sono delle cassette in cui potrò poi dimostrare la mia capacità di farlo. Una segna ci diceva che avevamo lasciato poche settimane fa sul set del video di Paolo Meneguzzi, una segna definita la Michelle Hunziker del futuro, da studio aperto, dal telegiornale italiano e da tanti media in Italia che ne hanno parlato. Beh, un paragone semplicemente per il fatto che siamo svizzere entrambe bionde, però diciamo che era un pochino una speculazione mediatica questa, mi ha fatto molto piacere, è stato un bellissimo servizio. Ciao RockinTV, spero vi ha tanto, 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 tanto successo.